E' stato arrestato l'ultimo uomo inizialmente sfuggito agli uomini della squadra mobile di Venezia in collaborazione col Gico della Guardia di Finanza di Trieste il giorno del Maxi Blitz che ha portato all'arresto di 50 persone. Nel primo pomeriggio gli uomini della squadra mobile di Caserta hanno dunque preso Antonio Puoti, 33 anni, ritenuto responsabile di associazione per delinquere a stampo mafioso, usura, rapina, banca rotta fraudolenta e spaccio di sostanze stupefacenti. E mentre si stanno svolgendo gli interrogatori si cerca di capire quale sia il futuro di Eraclea dopo l'arresto del primo cittadino Mirko Mestre per voto di scambio con la Camorra. Il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha incontrato il PM che si è occupato delle indagini, Roberto Terzo e poi il procuratore capo Bruno Cherchi. In questi casi difficilmente le cose le può fare una persona sola, ha commentato il prefetto, come già avvenuto in altre realtà. Italiane, un sindaco, un assessore singolarmente non possono garantire nulla se non c'è la collaborazione di altri. Per questo è fondamentale la nomina a breve di una commissione d'accesso per compiere le verifiche, mentre la prefettura ha inviato al Ministero dell'Interno la documentazione relativa al comune di Eraclea all'arresto del sindaco perché proprio dal ministero dovrà arrivare la nomina della commissione di accesso che poi sarà definita dal prefetto. In base alla relazione finale ci sarà poi la decisione o meno di sciogliere per mafia il comune di Eraclea. Se così fosse sarebbe il primo sciolto per mafia in Veneto. Grazie. Grazie. Grazie.